let's go benvenuti roppetti in questo nuovo episodio di spacchettamenti di carta e pokemon nello scorso episodio abbiamo spacchettato questa bellissima pokeball questa qua e oggi andiamo a prendere questa pokeball acquatica ok adesso c'è colpo di aprirla bene senza rovinarla tanto ok perfetto apriamola ok se l'ho viato un pochettino lì vabbè un po mi spiace però ok vabbè se l'ho viata poi l'ha finita un pochettino poi un secondo neanche quasi dai cioè se la tiene girata va bene quindi apriamola cerchiamo di aprirla e qualunque troviamo un'altra medaglietta una quadra l'altra volta poi un altro tuoni perduti e due lavori di squadra come sempre cominciamo ad aprire tuoni perduti se eccola qua come sempre codicino gansai trecco piki pack shitter stumfisk un bellissimo silicon un'energia chiara kaili e per finire un bellissimo fraffi seconda bustina lavoro di squadra ok codicino come sempre ecco qua andiamo avanti con con pochiena non so come si pronuncia pronuncio così pronuncio così un nidoran un panciam un voltorb un kreffrik un bellissimo farfekt un ninetales energia nidorina e kakuna e per finire imbottitura adesso abbiamo l'ultimo pacchetto di gioco di squadra vi dico ci abbiamo ancora altri due pokémon abbiamo ci saranno ancora parti due video di pokéball per adesso di spacchettamento di carte di pokémon di pokéball poi vedo cosa trovo in giro chiaramente come pokéball mi piace e mi interessa prendere almeno una per quale tipo ho visto che c'è anche la pokéball verde che è una cosa stupenda però andiamo avanti codicino poi abbiamo nidoran un mare che ma mare un ferro sed un germanda ecco la cosa di infuocata troppo bello un eli optire un grimer molto bello questo un marowak un energia un graverer tenaci di brock e per finire un bellissimo pupitar io come sempre spero che il video vi sia piaciuto se sentite mi piace condividete iscrivetevi al canale accendete la campanella delle notifiche e noi ci vediamo nel prossimo episodio ciao ragazzi ciao